Questa è Magugnano, la parte di paese dove abito io. Questa è una delle case particolari e assai curiose e interessanti di questo luogo. Magugnano è un paese particolare, proprio un paese che non ha delle bellezze architettoniche, dei monumenti conosciuti, le chiesette, qualche monumento ai caduti, oggi in Cespico. Ma ci sono delle case interessanti, quella di poco fa, del boccaletto precedente, e questa trovo che siano veramente diverse, curiose, in parte il casaletto prima, questa che è stata appena ristrutturata.